la nuova maglia della juventus ha creato un po di disastri sul web perché ovviamente poi la tifoseria ha dei gusti personali e si è messa a dare delle interpretazioni ogni tifoso ha la propria posizione e la nuova maglia piace e non piace io ve l'ho mostrata su tanti social network e poi ho fatto anche per dire un tiktok per vedere un po le vostre reazioni e devo dire la verità ho visto abbastanza equilibrio perché ci sono stati screen fantastici come questo oppure quest'altro per farvi capire che veramente ognuno l'ha vista o come una cosa fantastica o come una cosa terrificante come avete visto anche dal mio tiktok io in realtà apprezzo questa maglia ci sono alcuni dettagli che non mi fanno impassire ma arriveremo a parlarne all'interno di questo stesso video però sarei contento di vedere questa divisa addosso ai nostri ragazzi il prossimo anno poi ovviamente più che la maglia sono sempre dell'idea che la squadra debba essere forte però dato che oggi si gioca un juventus inter ad alta intensità cerchiamo di stemperare la tensione grazie ai vostri commenti perché sarete appunto voi i protagonisti di questo video e sarete voi a comunicare grazie a tante battute che avete lasciato nei commenti cercare di tirare fuori un sorriso a chi dall'altra parte sta guardando il video e non far pensare costantemente a questa partita che si arriverà stasera arriva ragazzi con calma tranquilli di ansia ce n'è già abbastanza vorrei partire da questo commento che mi avete lasciato su tik tok e no rispondo immediatamente alla domanda quindi non è ufficiale questa maglia però ovviamente è un leak che pare essere confermato quindi potrebbe essere effettivamente questa direi di iniziare dai commenti che ho trovato all'interno del mio profilo instagram come al solito vi lascio tutti i link per i miei social network qui sotto in descrizione questo è il commento di zalli che tra l'altro conosco perché ha creato questo quadro quindi un grandissimo artista se volete se state cercando qualcosa di simile vi invito a andare a vedere il suo profilo io capisco quello che sta dicendo perché ovviamente chi magari ha qualche anno in più ma io stesso mi metto in questa categoria visto che quest'estate toccherà a me compiere i 30 anni abbiamo visto anche divise diverse rispetto a queste quindi siamo più legati a un certo tipo di maglia da calcio poi ovviamente gli anni passano e ovviamente passano anche i gusti stiamo parlando comunque di abbigliamento quindi di moda comprendo che alcuni possono averla criticata tra virgoletto non trovarla proprio al 100 per cento fantastica per via di un attaccamento alla storicità delle maglie da calcio però ribadisco a me è garba e non poco ecco qua invece devo dire che l'importanza della virgola diventa decisiva perché secondo voi gli faccio cagare io o fa cagare la maglia c'è stava dicendo luca fa cagare la maglia o luca proprio non lo so ai posti l'argua sentenza ecco qui invece io vorrei implodere diciamo che non sono annate particolarmente felici a livello di ricordi però è vero qualcosa di simile c'è questa mi sembra tanto più bella di quella maglia lì in questione però in effetti il caro angelo è andato a tirar fuori un dettaglio un po così ecco io qua invece sono molto d'accordo con quello che dice gabriele perché le strisce all'interno proprio della scritta jeep ovviamente per scritta intendo saete non mi fanno particolarmente impazzire però vediamo vediamo come sarà eventualmente dal vivo qua c'è una battuta di un grande classico immancabile veramente senza questa battuta io non non apro internet perché tanto so che la trovo in qualsiasi post di qualsiasi contesto allora intendiamoci già stasera si gioca eventos inter il tricolore sul petto ce l'hanno loro non è che possiamo fare questo viaggio mentale che poi io sto male pensare mi faccio i calcoli le tabelle no lasciamo da parte questa cosa anche se su twitter ho trovato questo screen ed effettivamente col tricolore in mezzo non sarebbe niente male purtroppo dubito che quest'anno sarà roba nostra ecco a proposito di quattro per e e quindi quattro pere speriamo che possa essere questa la strada in cui non le prendiamo comunque magari le facciamo quattro pere ti prego juventus una volta io invece capisco alla grande questo ragazzo perché è la storia della nostra vita esce la mai della juve piace non piace comunque andiamo a comprare per chi come me che è appassionato di collezionismo questa roba è importantissima sì partiranno i soldini come al solito sì allora se prima stavo parlando di scudetto dicendo no vabbè impossibile lo scudetto figurati ma secondo te qui e là un commento di questo tipo ma un commento come è ancora peggio è ancora peggio sarebbe stupendo sarebbe fantastico però insomma diciamo che siamo abbastanza lontani forse in questo momento ecco io invece questo non lo sapevo non mi sono documentato quindi magari mi rivolgo a voi che avete come hobby appunto le maglie in generale da calcio fatemi sapere se anche voi confermate questa cosa qui oppure no vediamo poi magari la maglia potrebbe subire alcuni cambiamenti tanto questo sembra il primo leak confermato poi magari non sarà questa e questo video non servirà a niente poi passiamo ai commenti di twitter dove abbiamo una community un po più piccola visto che i follower sono sicuramente meno rispetto a tutte le altre piattaforme ma twitter da qualche mese a questa parte mi piace non poco ecco questa cosa del bianco concordo alla grande e ci sono tante maglie della juventus che richiamano più il bianco rispetto al nero però in realtà a me piace tanto è qualcosa che mi è sempre garbato e infatti poi si aggiunge quest'altro commento che va a racchiudere un po tutto quello che avevo appena detto quando c'è tanto bianco in contrasto con il pantaloncino ero veramente un bijou qui ho riso perché diavolo se vero sembra veramente una analogia rispetto a quello che sta accadendo alla juve in questo periodo quindi magari hanno pure fatto apposta e ve l'ho pubblicato anche qui sul canale youtube dove la community è al massimo splendore qui veramente ci sono di tutto e di più c'è di tutto tutto tutte le categorie andiamo a vedere un po cosa mi avete scritto io in realtà sono dell'idea che negli ultimi anni le maglie della juve siano state tante belle tranne magari quella dell'anno di sarri che quella che mi è piaciuta un po meno mi sembra una rappresentazione medievale sarà che qui da me facciamo una festa che si chiama finale stense in cui ci vestiamo tutti sembrava una tipica divisa finale stense invece le altre a me sono piaciute devo dire la verità lo apprezzate eccoci qua bastava chiederlo anzi tra l'altro sei uno dei protagonisti del video ti ho fatto aspettare un attimo chiedo scusa ma c'era un'altra priorità questo questo commento mi ha fatto ridere e non poco forse sono una brutta persona e se stai ridendo sei una brutta persona anche tu e se l'hai scritto sei ancora più brutta persona di me e di quello che ride però mi ha fatto ridere questa non l'ho capito coinvolto in che se mica l'ho disegnata io mica l'ho prodotta pensata io non c'entro niente e poi mi fa ridere perché sono troppo in moto quindi non posso avere un opinione personale invece la sua lo è mi ha fatto troppo ridere non è che sono arrabbiato per un momento del genere però uno non l'ho capito e due mi è sembrato incoerente col discorso credo che nicola abbia centrato un po il punto e cioè che è quello che dicevo all'inizio cambia tutto cambia tutto cambia tutto se no rimaniamo fermi a quello che c'è sempre stato e il mondo non è così non sarà così e no non lo sarà poi su tiktok che sapete qualcuno non apprezza qualcuno apprezza in realtà da tiktok sono stato attratto come una falena dalla luce devo dire la verità pensavo fosse il classico social dei balletti non è solo quello e ci stiamo provando pure noi ecco sì sì perché quella del milan quella bianca sopra bianca sotto terrificante terrificante proprio terrificante qua abbiamo una vera e propria notizia di calcio mercato perché anche il pipita apprezza gonzaloni guain prossimo al ritorno alla juventus soltanto per la gran maglia secondo lui è bellissima ecco siamo un pelio in ritardo per il pesce d'aprile però dato che comunque è iniziato a circolare già nella giornata ieri poteva essere sì poteva essere anche questo molto interessante perché in effetti sembra una delle classiche maglie che si discosta totalmente dal primo e il secondo kit quindi un'eventuale terza maglia come quella dell'anno di cardiff quindi tutta bianca però credo che sarà più questa la prima maglia quella home visto che è uscita l'indiscrezione di questo tipo e sulle altre ancora non abbiamo informazioni però non sarebbe male come idea non sarebbe male e niente ragazzi spero che tutto questo video un po diverso dal solito vi abbia fatto piacere fatemi sapere se intanto eravate presente in questo video se il vostro commento talmente tanto divertente è stato escluso magari perché ho registrato prima il video rispetto al vostro commento e li capita questione di tempismo ma continuate a commentare perché sarete protagonisti di tanti altri video vi ho passato un po l'attenzione nei confronti di juventus inter meno un pochino ciccinino no e vabbè lo so capisco grazie a tutti